Eccomi qua, il retino dov'è? Eccolo qua. Ok, puoi andare? Vai, Roxette è rientrata dentro. Per l'unica sono due anni forse che non le fanno. Manda fuori Ando Bursum, c'è l'ira. Karma è da prendere. C'è pure Prince se non è uscito. Priscilla, dai, spostati, amore. Spostati, Priscilla. Karma è buttante. Quello è fiavo. Vibra, vibra. Non l'ho visto uscire, dove è uscire? No, no, Erika. Ma blocca questa cazzo di porta. Nick, Nick l'ho fatta stamattina. Però che sei, Erika? Non li vedo uscire da questa porta. Tu li vedi, io no. No, non li vedo, ma qui. Lì già. E quando me lo dici è troppo tardi. Ok, Ligia. Tu stai là che loro te ne mandano altri ora. Stai fermo, stai là tu. Stai almeno a provare a prendere. Mamma, è devastata, Ligia. Devastata. Devastata per quanto è piena. madre di Dio, prega per noi peccatori. Mamma, dov'è la busta? Sì, c'è Eric. Il pellula non è uscito, è dentro. Il pellula è quella senza gocci. Comunque, purtroppo, calma. E il buttana. Ha cagato tutti i nuovi, da te. Ma che dici? Ha cagato tutti i nuovi. Mamma, mi devo arrappicare con la scala. Mamma, che schifo di gatta. Che buttana. Che bastarda. E perché sei cagata? Perché la spingevi? Mamma. Sì, gli fa molto piace. Steffi, se ti sei staccata, basta. Schifo sta calma di merda. No, si tiene non perché gli fa male, ma perché gli dà fastidio che si muove. Certo, gli fa male pure un poco, però è più il fastidio che si muove. Questo chi è? Chi? Dove? La vicina alla porta. Se non è andata. Tiago. Mamma, com'è ridotto in questo orecchio che è essa. Spostati dalla pipì. Vieni più qua. Sei ferma. Che hai questo orecchio devastato. Sei buona. Sei buona. Non fare la cattiva. Ligia. Sei buona. Che abbiamo finito. Dai. Buona. Buona, Ligia. Tutta pisciata. Sei. Guarda, guarda, guarda. Tutta pisciata. Sei ferma. L'ultimo orecchio e te ne vai. Buona. Buona, Ligia. Buona. Non mi fare male. Dai, ferma. Dai, bella, dai. Sei buona che faccio il buchino. Sei buona? Mamma. Non collabora minimamente questa. Vai qui indietro, tazzo. Ecco, ora sono in posizione e inizio a pulire. Ma, ma che schifo che ha questa. Madre di Dio. Madre. Madre di Dio. Nonostante la madonna, dice. Ma che schifo. e da considerare che ora dovrò lavarmi tutta la casa che quella si è cagata a tutti i muri ah che schifo e non vi fate aiutare in nessun modo in nessun modo vi fate aiutare ma io quest'anno per regalo di 50 anni vi devo fare a tutti a tutti vi devo fare a tutti no almeno una volta che sono anni che ora penso che Carla la prendete facilmente perché due ore li proviamo a farla scendere e morde e graffia la scopa mamma che mostro e ha cagato tutti i muri mamma mamma che belle cose mamma che gesti di canti mamma mia che gesti ma come sono così bastanti ma perché questa io le ho ripulite per bene non c'aveva l'inverno l'inverno ora gli mettiamo la pipetta la pomata ok pipetta e pomata sei buona ok ora mi aspetta pure pulire i muri di merda a posto siamo ok l'antiparassitario è questa guarda se è pisciata tutto ok antiparassitario è te e se ne puoi andare al paese tuo cos'è il paese tuo con l'è telefono non mi interessa tanto è il sacco la piazza sei bloccata là sopra non ci si può ho attaccato tutti i muri per arrivare fino a sopra fino a sopra al condizionatore ha voglia che gli miniamo con la scopa morde la scopa ma non scende no è puttana quella è puttana vai lì c'era da fare non è male che l'abbiamo presto vediamo se chi è scusa mamma mia ora a togliere sta madda si deve fare subito prima che si indurisce vieni a vedere per una volta che la la prendi che ora è stanca secondo me ora la possiamo prendere che ora è un'ora del combattere chiediamo qua